Ho letto una critica molto molto interessante, in realtà un po' pungente, però nemmeno troppo stupida e quindi ho deciso di fare un video, una critica all'Orealite che in effetti è una cosa abbastanza importante cioè un tizio diceva, Tony Khan ha detto in principio voglio creare una base molto sportiva all'interno dell'Orealite e poi se non perdo un'ora almeno su Twitter e sui social in generale a guardare i promo extra delle storyline, non ci capisco niente. Vediamo se è vero e vediamo se effettivamente può essere un modo giusto o sbagliato di gestire il proprio prodotto. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di Double Italian Podcast anche oggi sono qui per parlare di All Elite, anche oggi sono qui per cercare di fare un ragionamento intorno a quello che potrebbe essere un po' la gestione della All Elite Wrestling che per alcuni è tutta perfetta, per alcuni è tutta sbagliata molto probabilmente in realtà bisogna un pochino ragionare e fare un po' uno sforzo per cercare di comprendere quelle che possono essere le intenzioni reali da parte di un Tony Khan il quale ha deciso ovviamente di creare questa cosa investendo il proprio denaro e investendo il proprio tempo sul Pro Wrestling, un po' come noi stiamo investendo il nostro tempo, infatti ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che investono poi su di noi attraverso gli abbonamenti del canale, grazie davvero non è mai abbastanza il grazie per tutte le persone che si abbonano. Tornando a Tony Khan, beh lui ha deciso di fare un progetto importante, non è partito completamente da zero se vogliamo perché ovviamente si è messo in moto con i Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes, quindi persone che avevano già lavorato e stavano lavorando nel mondo del wrestling e nella produzione anche e c'era per esempio un Cody che oltre ad aver vissuto tantissimo in WWE vedendo come funzionava il prodotto degli ultimi anni era anche figlio di un Dusty che chiaramente logicamente aveva lavorato da tutta la vita e Cody è nato nel wrestling così come suo fratello Dustin anche lui preso praticamente dall'inizio, si è avvalso Tony Khan di persone di grande esperienza ma ha poi deciso di lavorare insomma su un prodotto che potesse essere effettivamente quello che piaccia a lui, quello che si può plasmare intorno alla sua personalità, al suo modo di essere e quindi la All Elite Wrestling che in questo momento ha un prodotto molto specifico ha deciso di creare degli standard che sono praticamente nuovi per il business partiamo dalla cosa più semplice all'inizio dello show al 99 per cento dei casi c'è un match e tra l'altro all'inizio dello show di solito c'è un match che diciamo sempre ma che match sempre belli, sempre interessanti, sempre da vedere si perde poco tempo sul ring per fare dei promo lunghi quando serve volentieri ma quando non serve si fanno dei promo backstage si fanno delle situazioni extra, si cerca di intervistare magari cioè quindi non di portare una persona che con occhi spiritati allo schermo come poteva succedere negli anni 70 e 80 parla contro un avversario X no, si cerca di fare un prodotto abbastanza costruito e effettivamente ci sono molte molte cose che finiscono a livello esclusivo e che magari ti vengono in parte riproposte o alcune delle quali ti vengono riproposte nelle puntate vengono fatte sui social quindi ci sono dei video in più sui social da guardare e allora io insomma vi prendo un esempio c'è stato un video di qualche giorno fa di Donna Purrazzo che ha parlato e una sorta di risposta da parte di Tony Storm la quale in realtà tira fuori il fatto che no, ok, la conosco, so chi è se dobbiamo confrontarci, confrontiamoci questo promo è uscito prima sui social e poi a collision è stato riproposto quindi all'interno di una puntata poi è stato riproposto quindi non è vero che non viene riproposto nulla se non si segue sui social però è anche vero che se io ho seguito un pochino i social della federazione beh, ero già informato di questa cosa e la domanda che io devo farmi è ovviamente questa se io ho una passione, qualsiasi passione non cerco di avere la maggior parte del tempo dedicato a quella passione non cerco di avere la maggior parte delle energie che vanno verso quella passione non cerco di essere a posto con tutto quello che posso avere, ricevere, assorbire da quella passione è chiaro, è evidente, molti di voi non seguono solo le All Elite io non seguo solo le All Elite e quindi pensare alle 5 ore di programmazione settimanale più pensare a tutto il resto, seguire i social, seguire magari la Ring of Honor può essere snervante può essere soprattutto se uno dovesse seguire la WWE che a sua volta si fa 7 ore di programmazione settimanale logicamente diventa tutto molto più complicato come faccio ad avere 14 ore del mio tempo per seguire i W, Ring of Honor e WWE è molto complicato poi quando ci sono i pay per view sono altre 3-4 ore in più che io devo dedicare, anche quello è importante ma c'è un ma che secondo me è quello che chiude tutto che chiude tutte un po' le discussioni noi possiamo anche pensare di avere poco tempo per guardare 7 ore di wrestling 5 ore di wrestling mettiamo soltanto le 4 ore di Dynamite e Collision però non dobbiamo far finta che mediamente poi non sto parlando del singolo che adesso mi puoi dire no io non lo faccio anche se non ci credo ma mediamente quanto tempo passiamo sui social cioè mediamente quante volte noi ci mettiamo lì che sia sul divano che sia sul water che sia nel letto che sia aspettando l'ora dopo che sia l'intervallo a scuola che sia il viaggio in autobus in treno quante volte noi apriamo i social e guardiamo e divoriamo contenuti come se non ci fosse altro di cui cibarci per quella giornata e per le prossime giornate quindi in realtà l'aurite non sta facendo altro che mostrarvi delle cose che magari potreste perdervi all'interno di uno show ve le mostra attraverso i social e quindi vi viene incontro perché voi dite io non ho tutto quel tempo lì per guardare Dynamite e Collision nel Rampage però magari il vostro tempo che è vostro potete farci quello che vi pare ci mancherebbe altro magari nel vostro tempo ci sono non 4 ore per vedere il wrestling ma in una settimana almeno 20 o anche 30 per guardare i social per scrollare i reel per guardare il feed e vedere se tizio ha postato una foto se il tuo amico ha postato una foto oppure se la persona che segui il calciatore il modello quello che vuoi tu ha postato qualcosa di nuovo si va dietro a un sacco di cose di cui in realtà non ce ne frega niente magari passiamo 20 minuti a leggere solo i commenti sotto una foto dell'Aurelite commenti negativi tanti commenti negativi li leggiamo tutti per dire ah ma che stronzo questo ah ma questo non si deve permettere di dire così ah ma guarda che risposta però gli è arrivata da quell'altro è una discussione che non ci darà niente non farà niente per la nostra vita noi perdiamo grossi minuti su quello e non ci lamentiamo per cui sì magari bisogna anche guardare i social ma tanto quando fai la cacca li guardi comunque no? e quindi tanto vale che mentre scrolli in questo caso il feed ti trovi davanti un contenuto che magari ti aiuta a comprendere meglio o ti evita perché questa settimana faresti fatica ti evita di guardare tutto collision e dire va bene non ho visto un pezzo ti evita di guardare tutto dynamite va bene non ho visto un pezzo ok? quindi in realtà sì è una critica e posso comprenderla però in realtà se io guardo le puntate trovo tantissimo sport tantissimo se io guardo le puntate trovo comunque i promo le storie raccontate se guardo i social trovo delle cose che vanno nei promo durante la puntata e delle cose che rimangono esclusive la puntata mi metto l'era guardo i social ci capito comunque perché tanto ci si vive sopra e alla fine che peso è? se per voi quello è un peso e niente continuate a guardare quelli che cadono dalla bici quelli che si fanno gli scherzi chi suona la chitarra per 30 secondi è una cosa impossibile guardate i reel che volete voi c'è pieno di reel reel di cucina di gatti che si picchiano quello che volete voi non c'è problema però non è una buona critica dire alla all elite bisogna seguirti un po' dappertutto e quante ore quante ore controllala bene la tua agenda e troverai sicuramente se togli un po' di social tutto il tempo del mondo per seguire tranquillamente una cosa che lo dici tu ti appassiona bene per oggi è tutto aspetto la shitstorm non c'è problema ognuno di voi che mi dirà sì però io non guardo così tanto i social lo ignoro già di base non mi interessa non è quello il fulcro della questione guardiamo quanta gente quanto tempo sta sui social mediamente e nella media ci siamo dentro tutti noi magari noi saremo quelli che guardano soltanto un'ora al giorno ma un'ora al giorno sono comunque sette ore alla settimana tante quante ti servono per guardare tutti e due i programmi principali rampage e addirittura a volte ti avanza del tempo dopo che hai visto finire la ring of honor questo è tutto io vi ringrazio di cuore saluto tutti quanti voi che siete arrivati fino alla fine che avete ascoltato il ragionamento aspetto la vostra nel frattempo vi saluto e vi ringrazio sono Stefano una voce di AIDA Britaglian Podcast noi ci risentiamo alla prossima grazie a tutti